L'attuale presidente della regione Emilia-Romagna, ossia Stefano Bonaccini, perde contro Ellie Schlein nelle elezioni primarie del PD del Partito Democratico, ricordo infatti che Ellie è il nuovo segretario del PD del Partito Democratico. L'uomo ha schiamato il suo sfidante, meglio, ha fatto i suoi più sentiti complimenti e la responsabilità che assume da ieri sera nell'ambito di guida del Partito Democratico. Tocca a lei indicare la strada maestra, così avrebbe detto il governatore della regione Emilia-Romagna che è uscito vincito dal voto dei circoli, però non ha soprato il voto aperto del 26 febbraio 2023. Sarà dunque Schlein, ovviamente, a essere la nuova prima donna del PD del Partito Democratico alla guida di un partito importante come questo, forse il principale, dello schieramento di centro-sinistra, va bene? Ed è l'esatto opposto di Giorgia Meroni, attuale presidente del Consiglio Italiano e principale presidente del partito politico Fratelli d'Italia, di centro-destra. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termine è qua, iscrivetevi, commentate, da Narrato Italiano è tutto, ciao a tutti.